Mamma mia che fucile d'assalto che vi propongo quest'oggi. Un MTZ556 come non l'avete mai visto su Warzone 3. Abbiamo distrutto una lobby in duo vitrio su Rebirth Island, veramente abbiamo fatto il panico grazie a questa classe. Stavo utilizzando l'MTZ556 in accoppiata con l'Arenetti, con il kit operatore, che ovviamente sappiamo tutti che è sbroccata. Ho una build un po' particolare, vi darò pure quella. Questa è una delle classi migliori che ho provato sino ad ora per demolire appunto tutte quante le lobby. Prima di darvi le build vi ricordo di lasciare un like, un commentino e di iscrivervi al canale. Grazie mille a tutti quanti per il supporto e adesso ti do queste build meta migliori in assoluto di Warzone. Partiamo da questa build super caliente, mi raccomando provala. Fucile d'assalto estremamente preciso, senza rinculo eccetera eccetera. Per poi arrivare a questa build un po' diversa da quella solita dell'Arenetti. Sono sicuro che spaccherai tutte le lobby, ti lascio con questo game fantastico. Buona visione! Ai ai ai, il suo suono è con l'iscra? Sto giocando con un Wolf and King adesso. Adesso un tiktoker. E cosa volevo dire? Dai, 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 dai. Secondo me questa classe così troppo facile così. Bene, ho appena ricevuto la notizia che non mi tocca la ora. Mannaggia a me. Dai, ci sta, ci sta. Ci sta. Allora bisogna fare un po' di content. Un po' di 80% ci muoio. No, non ti preoccupare. Uno te lo... P***a merda, oh giuro. Guarda che me lo scama. No, perché lo... Sono un scemo, pensavo di averlo atterrato io, giuro. Solo che a me, cioè, non riesco a distinguere la tridimensionalità del suono, ti giuro. Uno è andato a destra nella porta. Ok, uno l'ho fatto però... Ah, l'hai fatto tu, ok. Aspetta che faccio il giro, bro. No, il terzo che è qua. Gli altri due si restano. Buono. Uno si è restato. Tutti due. Eh, insomma c'è anche Isk, c'è tutto qua. Aiuta! Sono tutti restati praticamente. Se facciamo fuori quel team, secondo me... E poi non è che sono forti, cioè, stanno lì fermi. Ma sì, appunto. O riesci ad atterrarne uno, scappare, ritornare, eccetera. Però se stanno full stacked, è tosta così. Boh, li vogliamo ripusciare, che dici? Se vuoi. Eccoli. Sono sotto? Dove sono? Ah, sì, l'ho visto. È uscito? Sta uscendo, lo è stato? Hai fatto questo qua? Ah, no. Uno si è. Dico solo che uno di quelli ha preso una bullshit che... Non se la scorda più. La tua squadra ha raggiunto la zona sicura. Eh, sì, è tornato nei bagni uno. Sì, sì, sono due qua, eh. Che c'è l'unico in bagni. Un'altra? Prima. Godo! Come un riccio appena nato. Con che armai che mi ha shottato? Ah, col coso, ok. Ah, è la taglia al due, però. Ho visto anche persone parlare. Forse sono sotto? Questo. Sì, all'oddy, all'oddy. All'oddy è sceso uno. C'era qua. Come ho fatto? Ti buccio un altro. Ancchio sopra Silos. Manciato sull'elie. È sceso? Ancchio sopra. Ci vengano sopra, penso. Oh, cazzo. Mi salgo da dietro, vediamo un po'. Sono saliti sopra con la fune, mi sa. Beh, no. Più di uno. Uno, no, uno one shotissimo. Ok, bravo. Effettivamente ti dà un colpo quest'arma. Vado a prendere un bambino. E' sopra questo. Minchia, ce ne sono tre sopra. La uno si è buttato. È un po' pesante la Renetti. Qua c'è la... Oh, fuck. Sopra Nova, uno. Ok, però ce ne sono anche qua dentro. Oddio. Ce ne sono altri là, non è? Eh, sì, un bel po'. Full team. Minchia, un po' dappertutto. Sotto. Ok, l'altro è sopra. È la sopra di me, per favore. No, no, mi miro anche da sinistra. Non so da dove. Ah, po, 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 po. Arriva un altro. E questo è salito qui, però. Sì, è qua, qua da me. Ok. C'è un altro là da te, bro? Bravissimo. Faccio un bobbino. C'è un altro guave, comunque, in caso. Minchia, questi sono top. Oddio, abbiamo ucciso un top 250, attenzione. Vabbè, no? Non, minchia. Penso top 250. Questi sono, sono, sì. Sempre qua su tu, è uno, ne ha fingato. Non so se vuoi pure... Oh, cazzo, mi spara, no? Era uno. A front, uno, sta salendo. Oh, no, one shot. Come ha fatto a uccidermi lui, scusi? Devo provare a salire su nuova, secondo me. E provare a farmi questi qua. Come ha fatto a non entrare neanche un colpo, bro? Non ha proprio preso le imasso, sto. E stanno pushando da sotto, eh? E uno ha preso la fune. Anche sopra, sopra, sopra. Ah, che palle, oh. In otto col cecchino. Che vita che c'ha Veteo. E uno sotto di te. Eccolo, sinistro. Uno. Ok, un attimo, eh. No. Arriva in volo. Arrivando in testa l'altro, mi sa, in volo. No, non ce li hai su lì. No, perché l'ho fatto, Sousa? Mi ero dimenticato che avevo la maschera. E' la safe, tranquillo, sereno. Let's go! Mi è piaciuta la rotation. Hai visto? La parte della siringa del c***o. Mi sono sparato appena, appena tolta la maschera, minchia. Coglionazzo che sono. Minchia. Dai, dai, oh. No, no. Mi è piaciuta. Non. No, no. No, no. 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 Grazie a tutti.